Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Age of Empires 2, campagna di William Wallace. Siamo alla quarta missione, nuove tecnologie. Bene, per vincere dovrai passare all'età feudale e respingere le incursioni degli inglesi. Suggerimenti. I tuoi soldati attaccheranno automaticamente qualsiasi soldato nemico nelle loro vicinanze. Puoi anche selezionare i tuoi soldati e fare clic con il pulsante destro del mouse su una specifica unità nemica che vuoi attaccare. Esploratori. Il tuo villaggio è circondato da foreste ma non vuol dire che sia al sicuro. I soldati inglesi vagano per la campagna saccheggiando e facendo incursioni. Ok. Gli inglesi utilizzano armi e corazze molto avanzate. Per vincere dovrai passare all'età feudale e respingere le incursioni degli inglesi. Ok. Dovrai sviluppare alcune tecnologie personali per aumentare la forza della tua civiltà. Lo sviluppo del telaio deserto renderà gli abitanti più difficili da uccidere. Per sviluppare il telaio clicca su centro città. Quindi clicca su sviluppa telaio. Ok. Quindi loom si chiama in inglese. Il telaio è estremamente utile. Lo sviluppo di tecnologie richiede risorse ma potenzia la tua civiltà. Durante lo sviluppo puoi mettere a lavoro gli abitanti e utilizzare le unità militari per l'esplorazione. Cosa che stiamo facendo in questo momento. Mamma mia quante pecore. Solitamente non ci sono così tante pecore. Wow. Ok. Punto di raduno. Nello scorso episodio stavo parlando proprio di questi. Abbiamo la fortuna di poterlo testare proprio qui. Possiamo tranquillamente mettere il punto di raduno su una pecorella. Come vedete sponderà direttamente la bandierina. Invece quando cerchiamo di impostarlo su un cervo non funziona direttamente col clic destro. Perché in teoria al centro città se facciamo entrare gli abitanti del villaggio comincerà a sparare frecce. Quindi significa che anche... Hai il senso alle nuove tecnologie e ai nuovi edifici quando passi a una nuova epoca. Per passare dall'alto medioevo all'età feudale hai bisogno di 500 unità di cibo. Ora disponi di cibo sufficiente per passare all'età feudale. Tuttavia hai bisogno anche di due edifici dell'era corrente. Ora puoi passare dall'alto medioevo all'età feudale. Clicca su centro città quindi su passa all'età feudale. Ok momento mister tutorial. Prima di andare all'età feudale stavo parlando di questi punti di raduno. Ora come si fa quindi a mettere il punto di raduno su un animale selvatico? Bisogna premere direttamente l'hot keys quindi il tasto rapido oppure quella bandierina o la T in base a quale tasto avete impostato e cliccare sul cervo. In questo caso i prossimi che usciranno fuori... Gli abitanti possono radunare le pecore o cacciare i cervi per ottenere cibo. Sì ok ho perso adesso il filo del discorso accidenti. Ok giusto gli abitanti che usciranno fuori direttamente dal centro città quindi in questo caso possiamo impostare il punto di raduno sul cervo che è stato già cacciato. Possiamo tranquillamente mandarli lì e cercheranno di attaccarlo o di in generale per raccogliere le risorse. C'è un altro piccolo particolare che riguarda i cervi che solitamente si fa con l'esploratore a cavallo però posso provare a farlo perché non lo faccio così tanto spesso questa operazione. Come noterete i cervi tendono a scappare da qualsiasi unità quindi possiamo fare in modo che qualcuno si avvicini ad esempio a una struttura di raccolta come in questo caso il mulino e tentare di farlo avvicinare quanto più possibile per avere molto cibo molto più velocemente. Quindi in questo caso viene molto bene con un esploratore in questo momento è molto vicino il cervo possiamo mettere il punto di raduno far uscire molto velocemente i nostri abitanti e raccogliere il cibo in un punto sicurissimo e soprattutto estremamente veloce perché le risorse essendo che in questo momento gli abitanti si trovano all'interno del quadrato del centro città recupereranno direttamente le cose senza dover fare strada né nulla. Ora come ho fatto a far uscire così velocemente questi abitanti ho premuto presidia quindi con il mio pulsante T in questo caso e poi ho ripremuto di nuovo T per dare il nuovo punto di raduno una cosa che ormai faccio di riflesso e poi premo la G. Così facendo questi ultimi andranno a fare quello che gli è stato chiesto quindi per esempio io faccio T faccio entrare quindi gli abitanti premo T di nuovo vado sull'albero qui premo la G e loro andranno a lavorare sul nuovo punto impostato. Ora possiamo tranquillamente utilizzare T ed F per farli andare di nuovo a fare quello che stavano facendo prima quindi in questo caso questi abitanti stavano fermi qui e di conseguenza sono tornati direttamente qua senza fare niente di che. Poi un altro piccolo particolare che è piuttosto importante proprio le pecore o in generale gli animali che vengono cacciati hanno un tot di cibo a disposizione. Questo cibo come di norma va un po' a male se non viene raccolto molto velocemente quindi per fare in modo che si possa sfruttare al massimo una pecora solitamente si mandano sei abitanti del villaggio. In questo caso ne ho quattro potrei tranquillamente prenderne due e metterli qui quindi diventeranno sei. Questo è solitamente quello che succede con un po' tutte le build iniziali. Sì ok non ti preoccupare. Poi per quanto riguarda gli abitanti dovete fare un po' attenzione con le pecore perché sfortunatamente sono un po' come dire non vi potete fidare di questi qua perché non andranno a prendere la pecora più vicina a volte se ne andranno a cercare anche pecore che non c'entrano nulla. Quindi per sicurezza tenete premuto shift. Oh wow attacco furtivo con fanteria scelta addirittura e attaccano la caserma cioè gli allocementi eia questa è nuova come cosa. Per quanto mi riguarda eh. Venite forza. Possiamo provare ad attirarli verso il centro città così non perdiamo nemmeno HP volendo cioè a parte vabbè. Potremmo farlo molto meglio sicuramente. Eh ok adesso possiamo tranquillamente. Ho fatto noi tutto il lavoro. Ora che la battaglia è terminata crea altre unità di milizia presso gli alloggiamenti per completare le tue forze. Ok stavamo dicendo. Tuttavia sì prima avete sentito il suono delle pecore di nuovo come se le avessero ritrovate. In pratica le pecore cambiano il colore in base all'unità che è più vicina all'ora o in questo caso alla struttura. Quindi possono anche essere rubate dagli avversari. Comunque se vogliamo essere sicuri che per esempio i nostri sei abitanti qui vadano a questa prossima pecora possiamo selezionarli tenere premuto shift e cliccare col destro sulla pecora che ci interessa. Ok. Così sappiamo cosa faranno. Passare all'età successiva è il modo migliore per far avanzare la tua civiltà. Impulsante abitante in attesa. Cliccaci sopra per individuare gli abitanti che al momento sono inattivi. Adesso che sei nell'età feudale puoi potenziare le tue unità milizia a fanteria scelta. Clicca sugli alloggiamenti poi su potenzi a fanteria scelta. Ok un attimo solo perché. Poi ho fatto un po' di confusione mister tutorial. Voleva anche spiegarci quanto vale l'abitante del villaggio in attesa. Cioè sarebbe quell'abitante che sta fermo da qualche parte che non sta facendo nulla. Solitamente succede quando finiscono magari delle risorse se non si dice di andare a fare qualcos'altro e così via. Ora in questo caso non è necessario per forza vederlo. Possiamo premere l'hot key che scegliamo. All'inizio solitamente il punto ma io preferisco metterla sul backslash perché è più vicino al numero 1. Così salterà direttamente sul abitante. Vogliamo mettere un attimo questo qui fermo giusto per vedere cosa succede. Come vedete la telecamera salterà sui vari abitanti che sono fermi. Così facendo potrete controllare che sempre stiano facendo qualcosa. Ok. Questa cosa che sto facendo ragazzi è inserire le strutture all'interno dei gruppi di controllo. I gruppi di controllo possono essere utilizzati sia per le strutture e sia per le unità. Molto utile solitamente per le unità. Possiamo vedere i gruppi che sto utilizzando su Definitive Edition in questo caso qui. Possiamo arrivare anche fino al gruppo 10 cioè il gruppo 0 però non è necessario. Ovviamente fate in modo che i pulsanti che scegliete siano comodi per le vostre mani e quant'altro. Ora questa volta avranno anche un cavaliere a disposizione con il più radici più uno. Quindi nuovamente metteremo le unità al centro città e cercheremo di farci aiutare. Stavo notando un particolare che non so se è voluto. Ma solitamente spiegava anche il suono della campana. Yeah boy. Non possono assolutamente. Molto strano. Ok. Credo proprio che... Strano che non l'abbia completamente spiegato questa cosa. Cioè che cosa voglio dire? Purtroppo adesso non posso farvela vedere. Solitamente speravo che lo spiegasse. Però in pratica la campana... Forse è meglio poi che ve la spieghi nel prossimo episodio effettivamente. Giusto per farvi vedere come funziona. Anche se, vi dico, in partenza non è un pulsante che è bene premere molto spesso. E poi vedremo un po' perché. Detto questo vediamo un pochettino che cosa ha da dirci mister narratore. Edoardo ha invaso, ha salito e saccheggiato la città di Perth. Peggio ancora, ha rubato la leggendaria pietra di Scom, proclamandosi re di Scozia. Se non riusciamo a ottenere presto una vittoria, l'esercito scozzese si demoralizzerà e non vorrà più combattere. Se questo gigante leggendario esiste davvero, spero che porti le sue forze a Sterling, dove affronteremo la prossima battaglia. Va bene ragazzi, con questo concludiamo la quarta missione. Io spero che fino ad ora vi stiate divertendo. Spero che, ci so, che non sono cose troppo troppo complicate. Sicuramente i giocatori più esperti conoscono già molto bene le basi per questo gioco. Però spero che comunque stiate apprezzando questi piccoli tutorial. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!